Rieccoci, buon mercoledì sera a tutti voi da Marcus, domani sera settima estrazione del mese, del mese di giugno, riandremo a rivedere la nuova classifica nel 90, una modifica per quanto riguarda la ruota di Genova, non per gli ambientamenti ma anche aggiungere la sua gemella Palermo, perché quello di Venezia andrà proprio a finire Genova-Palermo, le due situazioni quali di origine, quindi quella di ieri sera e poi quella più a monte, Genova-Palermo, quindi la classifica integrale si toglierà quella di Venezia, si aggiungerà quella di Palermo, passo dopo passo, logicamente l'andremo a vedere sempre, come vi ho fatto vedere sempre ormai da anni, e che dire ai nuovi visitatori del mio canale, se avete voglia, quindi se vi fa piacere iscrivetevi al canale, perché facendo così troverete questi nuovi video, questi nuovi contenuti video come questa sera che sto postando qui su YouTube. Detto questo, ovviamente passiamo al sono, andiamo subito a vedere che cosa è successo ieri sera, il 90 arriva a Venezia, perché ho detto Venezia e non Bari? A dirvi la verità, come vi dicevo ieri sera, da più giorni ero preoccupato perché Bari veramente ha dato l'unplane, ha dato sei volte nel mese, di maggio il 90, praticamente si è fatto tutto maggio il 90 a Bari, allora il 90 quindi è arrivato su Bari per ben sei volte, quindi in teoria ho detto probabilmente arriverà su Venezia ormai, e avevo fatto la classifica del 90 con Firenze, Genova, Torino e Venezia, così è stato ieri non è arrivato in posizione, ma avete visto che comunque l'avete giocati in tantissime, per motivi di tempo ovviamente non faccio vedere gli scontrini, se no diventa lunga, allora questo era il vecchio 90, praticamente che poi è approdato su Venezia ieri sera, questo 90 adesso come vi dicevo punta a Palermo-Genova, anche qui andiamo a vedere un po' il rimbalzo di queste due ruote, eccoci qua, allora Palermo 2 giugno, siamo nel mese di inizio giugno, quindi il 90 era arrivato a Palermo, avete visto Palermo quindi è già arrivato al 90, come vi dicevo questo 90 poi in automatico va a finire a Genova, quindi Genova riflessa Palermo, poi ieri sera che cosa è successo? Andiamo a vedere i riquadri velocemente, ieri sera il 90 arriva e va a finire Palermo-Genova, quindi qua abbiamo due situazioni, e quindi Venezia è uscito ieri sera, quindi questo va da valorare di nuovo Palermo e Genova, perché vi dico adesso giochiamo Palermo e Genova gli stessi abbinamenti? Perché gli stessi abbinamenti sono scaturiti anche su Palermo, e danno appunto anche il 63 e il 72, quindi occhio a queste due ruote perché adesso la previsione si è fatta per intero in questo modo, eccola qua, allora Genova ovviamente rimane sempre a seconda e quarta posizione, Palermo in aggiunta, vedete, stessi abbinamenti, ambetto e terzina, non cambia nulla, quindi questo è l'ampliamento per il 90, poi andiamo a vedere la classifica totale del 90, sempre le quattro ruote top, Genova seconda, quarta posizione, Palermo seconda, quarta posizione, la più forte a Palermo è la seconda, la più forte a Genova è la quarta, ma ovviamente l'estratto semplice per coloro che amano l'ambata secca, quindi su ruota e in posizione, ovviamente l'ambata semplice dovrebbe essere ormai un optional, quindi dovrebbe essere sempre. Allora, per quanto riguarda gli abbinamenti abbiamo detto anche per Palermo, 63 e 72, e la terzina, io ho messo Ambo e Ambetto, avete visto che arrivano sempre quasi spesso e volentieri gli ambetti, poi ovviamente la classifica integrale ormai si raffigurerà così, eccola qua, allora, Firenze sempre prima, quarta posizione, Genova seconda, quarta posizione come vi ho appena detto, Torino, eccola il Torino, abbiamo visto gli schemi, ve li faccio rivedere ancora una volta, Torino seconda, terza e quinta posizione, qui abbiamo tre posizioni veramente alte di ritardo, quindi ho messo anche la seconda posizione perché ovviamente potrebbe arrivare lì, e ovviamente l'estratto semplice. Poi Palermo, eccola qua, queste sono le quattro ruote top, al quarto posto c'era il Venezia che è uscito ieri sera, ma adesso la classifica 90 è questa, le quattro migliori ruote e le quattro ruote top. Ecco, questa è la classifica integrale, in poche parole, di quello che dovrebbe arrivare sulle ruote, poi ovviamente non c'è garanzia di nessun tipo, però come avete visto nella maggioranza dei casi il 90 è arrivato sempre e quindi ha rispettato le ruote che ho sempre dato qua sul mio canale. Quindi Firenze, attenzione a quei numeretti, ci ritorniamo adesso, il 4, il 5 e l'8 perché c'è stato silenzio e ho detto, quindi se c'è silenzio probabilmente adesso dovremmo esserci, dovremmo, attenzione, dovremmo esserci, quindi una previsione che va ancora trattata con i guanti perché ne vedremo ancora, quindi gli schemi, perché vi dico ancora 4, 5 e 8, perché si sono ravvivate, si sono fortificate le condizioni. Ve le faccio rivedere con calma, ovviamente come faccio per il 90. Quindi queste sono le quattro ruote, attenzione, la previsione nuova, quindi si va a integrare insieme a Palermo, questa si va a integrare, quella di Genova, si integra insieme a Palermo, perché adesso quello di Venezia, come vi dicevo, punta Palermo-Genova. C'era quello del 3 giugno, quindi Genova-Palermo, adesso Palermo-Genova. Incastro, incastro per l'ambata contata e combinazione, la mia ricerca mi porta a 63 e anche lei 72, quindi 90, 63 e 72, Ambo e Ambetto. Giusto, giusto, ancora due minuti per farvi vedere quello che potrebbe arrivare su Firenze-Roma. Non cerchiamo di abbandonare, ovviamente, chi può portare avanti la previsione, perché vi faccio vedere gli schemi adesso, perché vi dico quella condizione, perché insisto. Guardate qua. Allora, la condizione a Monte, quindi quella precedente, portava il 4, il 5 e l'8, infatti il 4 e il 5 si sono fatti vedere, ma pure l'8 nel corso di queste estrazioni, ma non si sono ancora lineate. Ma guardate cosa è successo in due estrazioni. Allora, questo è sabato 11 giugno, 11 giugno, 8 ritorno a Roma e Firenze, quindi di nuovo l'8 ritorno a Roma e Firenze. Ieri sera che cosa è successo? È arrivato di nuovo il 5 e il 4. L'ambata contata, 1, 2, 3, 4 e 5 rimane Firenze, riflessa Roma. 1, 2, 3, 4 rimane a Roma, riflessa Firenze. Si rinnovano le condizioni da monitorare ancora per 2 o 3 colpi, poi ovviamente se non ci saranno dei risultati si mollerà definitivamente. Però, visto che si è ravvivata la condizione, ovviamente per quello sto citando di nuovo il 4, 5 e 8, cosa che 4, 5 e 4, 8 e 5, 8 ancora non si sono fatti vedere come ambi secchi. Intanto sulle altre ruote avete visto gli ambi in decina, quindi i numeretti, fanno la loro comparsa, vedete, 2, 6 e poi vanno avanti, ci sono gli altri numeretti. Quindi attenzione, attenzione a questo 8 che ritorna a Roma, per quello vi sollecito ancora Roma e Firenze 4, 5, 8 e poi di nuovo ieri sera si cominciano a far vedere dopo quel silenzio di 4, 5 estrazioni. Quindi attenzione, vi ho fatto vedere come vi sto ripetendo da giorni che questi numeretti possono andare a braccetto in collisione fra di loro. Questa è la vecchia precisione che ha dato il 20, 70. E allora? Quindi 4, 5, 7, 4, 5, 8 ancora. Firenze e Roma, ovviamente, per quanto riguarda i numeretti. Vi ricordate cosa vi avevo detto? Se dovrebbe arrivare il 90 Firenze, 4, 5 e 8. Quindi 4, 5 e 8 sono di nuovo possibili abbinamenti per il 90 Firenze. Il 90 che dovrebbe essere ancora classificato come possibile su Firenze. Quindi attenzione, Firenze con i suoi numeretti, poi ovviamente Torino, come vi ho fatto vedere nel gruppo Telegram, con quell'abbinamento e quindi attendiamo ancora due estrazioni. Giovedì e sabato, se non dovesse uscire giovedì, quindi ancora sabato, gruppo Telegram, poi da lunedì, martedì, le condizioni nuove, senza più quel numero, ma quell'ambo lì, se non dovesse uscire ancora giovedì e sabato, l'ambo jolly che vi ho fatto vedere su Telegram, quello allora potete continuare ancora due o tre colpi. Ma la previsione in se stessa su Telegram, quindi poche estrazioni ancora, quindi diciamo giovedì e sabato, e se non esce niente, amen. Ma l'ambo che vi ho dato, jolly, quello allora potete continuare ancora per qualche estrazione. Poi si muola tutto ovviamente da giovedì in poi, per la prossima settimana, giovedì giù di lì. Va bene? La classifica integrale allora rimane questa. La andiamo a rivedere, questa è la nuova condizione. Genova stavolta anche Palermo, stessi abbinamenti, stessa procedura come Ambetto e Terzina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Genova-Palermo, le condizioni le abbiamo viste insieme, quel Venezia ritorna Palermo e Genova. Quindi si rinforza la condizione Genova, ma si rinforza anche la condizione di Palermo. Poi, vedete questo schema, importantissimo, quello di prima era del 2-3 giugno che invece puntava su Genova-Palermo. Quindi Genova-Palermo, quello retro, e questo ultimo Palermo e Genova. Quindi occhio, classifica integrale, eccola qua. Ve la faccio rivedere, alla nausea, memorizzatela, screenshot con il telefonino, ve la memorizzate per gli appassionati del 90. Questo è tutto ragazzi, una buona serata da Marcus e domani sera poi vedremo come andranno le occasioni. Poi, come vi dicevo, dalla prossima settimana se non ci saranno risultati con la previsione Telegram, allora poi vi comunicherò il tutto sempre nel gruppo. Va bene? Un abbraccio a tutti voi, mi raccomando, chi è nuovo, iscrizione, consiglio di iscrizione. Non obbligo a nessuno, è gratis e così potrete rivedere i nuovi contenuti di Marcus Lotto. Ci risentiamo alle prossime news da Marcus, è tutto, ciao, buona serata.